Parliamone è presentato da Napoli Flash 24, Nomos, Movimento Forense, Caffè Letterario. Un libro sospeso è un progetto per combattere la povertà culturale. Parliamone. Do il benvenuto alla dottoressa Daniela Merola. Allora Daniela, che cos'è il progetto Un libro sospeso? Il progetto Un libro sospeso ha una doppia valenza. Innanzitutto è un progetto imprenditoriale perché intende aiutare le librerie piccole o grandi che siano a venire fuori dalla crisi nella quale ormai versano da anni e a smuovere quindi il sonnolento mercato editoriale. Dall'altro lato è un progetto sociale perché intende combattere la povertà educativa e la povertà culturale che ormai ha preso il sopravvento nei nostri tempi. Quindi mi piacerebbe poter coinvolgere le associazioni culturali, le librerie, il comune di Napoli, le associazioni benefiche, chiunque voglia partecipare a questo bel progetto. Io so che il progetto ha anche uno slogan. Qual è? Lo slogan del progetto Un libro sospeso è molto semplice. Credo racchiuda benissimo l'intento, poi l'obiettivo di questo progetto che è un libro per me, l'altro per chi non può. Quindi credo che sia molto chiara l'obiettivo di questo progetto. E qual è invece lo scopo del progetto? Lo scopo di un libro sospeso è molto semplice. E' quello di voler spezzare le catene che imprigionano la nostra mente. E' quello di voler divulgare cultura e quello di voler combattere in maniera piccola o grande che sia, la povertà culturale ed educativa. Quindi è un progetto molto bello al quale io ci tengo particolarmente e mi piacerebbe che anche il Comune di Napoli potesse essere coinvolto in questo bel progetto. Grazie Daniela di essere stata con noi. Parliamone, è stato presentato da Napoli Flash 24 Nomos, Movimento Forense, Caffè Letterario